Ti do il benvenuto a Flamenco Chiavi in Mano. Oggi parliamo di che cosa sono i palos del flamenco. Tutte le persone che affrontano lo studio del flamenco si trovano sempre di fronte a questo termine, palos. Che cosa sono i palos? Allora, genericamente possiamo tradurre questo termine con stili. Stili di che cosa? Stili centralmente del cante. Il flamenco è molto complesso e ha un repertorio grandissimo, direi assolutamente gigantesco. Per riuscire a capire qualcosa in questo oceano di musica e di emozioni, che è il flamenco, ci aiuta moltissimo l'idea di avere una classificazione e quindi di suddividere i vari generi musicali, appunto i vari stili, in diverse famiglie, in diversi sottogeneri, in modo da capirci un po' di più, in modo da riconoscere somiglianze, differenze e avere un'immagine più chiara di quello che le nostre orecchie e probabilmente assolutamente il nostro cuore stanno ascoltando. Il termine palo non si sa precisamente per quale ragione sia stato scelto questo termine palo per descrivere il genere musicale nel flamenco. Alcuni ovviamente dicono che probabilmente anticamente c'era qualcuno che aveva in mano un bastone, appunto un palo, e che batteva il ritmo. Probabilmente un po' sciocca come interpretazione, visto che moltissimi palos sono assolutamente privi di ritmo. Anzi, quelli più profondi, quelli più antichi, sono assolutamente privi di ritmo. Insomma, come molte cose del flamenco, non si sa esattamente da dove venga questo termine, però forse non ci interessa nemmeno tantissimo saperlo. Quello che ci interessa è proprio capire il concetto. È molto strano perché in altri generi musicali non c'è una esigenza così incredibile come c'è nel flamenco, così forte come c'è nel flamenco, di suddividere i generi musicali. C'è come l'esigenza di capire, l'esigenza di sapere, di catalogare, appunto. I vari generi del flamenco si distinguono tra di loro tantissimo per emozionalità. Alcuni sono proprio come il giorno e la notte dal punto di vista emozionale. Altri invece esplorano delle emozioni molto simili tra di loro e quindi si può fare un po' fatica magari a riconoscerli. Vediamo intanto quali sono le caratteristiche principali che distinguono i vari palos, le varie famiglie. Ti ho già lungamente parlato delle scale musicali utilizzate nel flamenco e abbiamo visto che le famiglie musicali sono tre. La scala maggiore, la scala minore e la modalità flamenca. Poi c'è assolutamente da catalogare la struttura ritmica per cui che sia in un ritmo ternario, che sia in un ritmo di amalgama è un ritmo composto di tre e di due tempi che alla fine genera una frase ritmica di dodici tempi. Ci sono altre frasi ritmiche che hanno delle logiche ancora diverse ma vedremo tutto questo con più precisione in un altro podcast. Adesso voglio solamente dire che i vari palos si distinguono per la loro struttura ritmica oltre che per la loro struttura musicale. Un altro elemento che distingue i vari palos è la velocità. La velocità crea un cambio proprio nell'atmosfera della musica molto forte. La stessa melodia, suonata più velocemente o più lentamente, cambia proprio del tutto. Quando la melodia è più lenta, diventa immediatamente più malinconica, più introspettiva, più romantica, più nostalgica. Mentre quando la velocità sale, anche le note più tristi o più drammatiche sembrano allegre. Il quarto ed ultimo elemento, che forse avrei dovuto dire prima di tutti gli altri perché è il più importante, è la struttura melodica. I vari palos si distinguono al 100% l'uno dall'altro solo con la comparsa del cante e con l'ascolto del cante. Cioè gli altri tre elementi, velocità, scala musicale e struttura ritmica, non sono sufficienti al 100% per distinguere un palo dall'altro. Perché dico questa cosa? Perché ovviamente dobbiamo sempre metterci dal punto di vista del flamenco, che è totalmente il punto di vista del cante. Anche se poi magari a noi piace moltissimo suonare la chitarra o ballare, dobbiamo sempre ricordare che il flamenco nasce dal cante ed è al cante che dobbiamo fare sempre riferimento. I vari generi musicali, appunto i vari palos, sono divisi in sottofamiglie in alcuni casi. Tant'è che diversi flamencologi o quantomeno studiosi del flamenco hanno generato questa meravigliosa idea grafica che è quella di un albero. Ne hanno disegnate tantissime versioni anche molto belle da un punto di vista pittorico, molto immaginifiche. È proprio un albero con tanti rami e sottorami e foglie e i rami più grossi corrispondono ad alcune famiglie che poi si appunto diramano in palos più specifici, che mantengono con gli altri palos dello stesso ramo alcune parentele, alcune somiglianze, oltre che evidentemente delle differenze. Altrimenti non si sarebbero identificati palos diversi. Ci sono alcuni palos che sono più importanti, diciamo, di altri. È un po' come se fossero dei poli di attrazione che hanno esercitato un'influenza molto grande in tutti i palos del flamenco, o comunque in molti palos. Direi che questi sono i palos che non possiamo evitare di conoscere. Poi in realtà, se ci appassiona il flamenco, prima o poi andremo ad esplorare anche palos meno comuni o palos che nella storia del flamenco sono stati un pochino più marginali. È chiaro che se mi addentro nello studio del flamenco ci sono alcuni appunto palos che sono assolutamente fondamentali da conoscere. La prima cosa che mi viene in mente in termini di tempo sono sicuramente le tonà, da cui nasce tutta la famiglia delle sigilias. Sono cantes che vengono da tempi molto molto antichi. L'ho detto tante altre volte, ascoltando una tonà, se conosci la cantillazione del Corano, il richiamo alla preghiera arabo, ritrovi immediatamente le radici della tonà. Ma in maniera, non c'è bisogno di essere un musicologo per riuscire a sentirlo. Nella famiglia tonà abbiamo tutto ciò che è senza ritmo, o meglio, più che senza ritmo, perché in qualche caso, come nel Martinete, il ritmo arriva, più che altro tutto ciò che nasce dalla singola voce, senza un accompagnamento. Abbiamo la Debla, la Carselera, il Martinete, appunto, le Saetas, che sono super interessanti anche loro, e tutti i vari cantes camperos, i canti della semina, i pregones, i canti del mercato, le nanas, le ninnananne. La tonà ha dato origine a tutta la famiglia delle sigilias, per cui con tutte le varianti possibili, la liviana, la serrana, i cabales, alcune romances, le plaieras, veramente tantissime cose. Poi c'è la famiglia soleà, la famiglia da cui vengono altri cantes, come la cagna, il polo, la buleria stessa, la soleà per buleria o buleria per soleà, e tutte le mille varianti che questi palos possono avere. Poi c'è tutta la famiglia dei tangos, che sono tutti in quattro quarti, tango, tanghiglio, tiento, tutta una serie di varianti, il sapateado, la zambra, la colombiana, la farruca, il garrotin, la mariana, la rumba, la milonga, la vidalita, mamma mia, c'è veramente un mondo dietro lì. Poi c'è tutta la famiglia dei fandangos, i fandangos hanno una varietà impressionante, ne parlerò più approfonditamente in un altro podcast. Sono comunque degli stili regionali, locali di varie zone dell'Andalusia, che piano piano sono stati portati dentro il flamenco e rielaborati sempre di più nel flamenco. Per cui abbiamo stili locali, come può essere la Malaghegna, la Ranaina, la Rondegna, che nominano vistosamente dei posti, lo stesso fandango de huelva. Più chiaro di così, in termini di nominare un posto. Poi abbiamo Verdiales, Javera, Javerote e i vari fandangos locali appunto. Fandangos del Levante, Fandangos de Málaga, Fandangos de Lucena, Fandango d'Almeria, Fandango de Jaen, Fandango de Cabra, Fandango de Puente Renil. Ne abbiamo tantissimi. Dalla famiglia Fandangos vengono fuori tantissime altre cose che non sono così evidentemente fandangos. Sono tutti i palos del Levante. Quindi tutti i palos che hanno questo sapore orientaleggiante e nei quali la chitarra marca tanto sulle corde più gravi, le corde di bordone, quelle più grosse, che portano un suono molto oscuro, molto nero. e abbiamo tutta una famiglia grandissima. Le Tarantas, i Tarantos, le Catraineras, la Mursiana, la Minera, la Levantica, la Ferregna, il Fandango Minero. È interessante perché tutti questi palos che ho nominato che vengono dalla famiglia Fandango hanno degli elementi in comune tra di loro che sono soprattutto quelli di una struttura nel cante che ha come un enunciato, uno sviluppo, e una conclusione. Però sono molto eterogenei tra di loro perché alcuni hanno un ritmo. Tutti i Fandangos a Bandolaos come quelli che ho nominato prima, la Rondeglia, la Javera, il Javerote, il Fandango dell'Uscena, il Fandango del Meria, il Fandango del Ranada, lo Sverdiales, sono tutti Fandangos che hanno una base ritmica comune, molto forte, in un ritmo ternario un po' saltellante, simile a quello del Fandango de Huelva, grossolanamente, ma diverso, mentre gli altri Fandangos che ho nominato non hanno ritmo e vengono anzi cantati in maniera molto libera dal cantaor e suonati in maniera molto libera dal chitarrista quando, per esempio, vengono utilizzati per fare un solo di chitarra. Ciò che accomuna questi Palos è qualcosa di particolare che è la struttura della lettra, la struttura del cante. Magari poi anche la struttura del cante è abbastanza diversa perché, per esempio, sto pensando a una Rondegna grande che ha una lettra molto complicata, molto lunga e magari ad una lettra di Verdiales che ha una struttura molto più semplice anche da un punto di vista musicale. Quindi l'eterogeneità a volte nel flamenco è davvero tanto, tanto grande. Eppure si possono appunto riconoscere delle famiglie. Un'altra famiglia che ancora non ho nominato ma che viene assolutamente imparentata alla famiglia delle Soleares è la famiglia delle Cantignas. Le Cantignas sono dei Palos Allegri, ne ho già parlato in altri podcast una specie di ventaglio di possibili esplorazioni di diversi tipi di emozionalità sempre piuttosto sereni, solari, allegri per cui abbiamo questo lo dice la parola stessa. Abbiamo le Allegrias con le due varianti di Cordoba e di Cadice che sono molto diverse tra di loro. Poi abbiamo il Mirabras, Caracoles, la Romera. Sono ben lontana da averli nominati tutti assolutamente. ho solo fatto una specie di excursus. Dicevo, la varietà dentro a queste famiglie di Palos è grandissima. Ma perché? Perché il flamenco ti impone una grandissima creatività. E allora se sei un cantaor e cominci a cantare porsoleà e sei molto bravo e sei con i piedi radicati tanto dentro il flamenco ad un certo punto comincerai a produrre una melodia diversa, lievemente diversa, una specie di variante e se gli altri ti ascolteranno e l'apprezzeranno cominceranno a cantarla anche loro e si creerà quindi uno stile nuovo. Esistono di fatti tantissimi stili di soleà, tantissimi stili di cantigna, tantissimi stili di fandango, tantissimi stili di sigilia, tantissimi stili di tango, potremmo continuare all'infinito e questo è proprio grazie alla creatività. Un'altra famiglia molto importante è la famiglia dei palos di Ida e Uelta. Sono tutti i palos che sono stati influenzati direttamente o indirettamente dalla musica di Oltreoceano. Abbiamo tutta la famiglia Guajiras, Vidalita, Milonga, lo stesso tango è molto influenzato dalla musica di Oltreoceano, la stessa rumba. Un discorso un pochino a parte si può fare per dei palos più di fantasia che sono magari stati creati da qualche cantaor proprio per generare qualcosa di diverso. Ci sono alcuni palos appunto che sono nati totalmente dalla fantasia di un cantaor come la colombiana ad esempio di Peppe Marcena, la canastera inventata proprio di sana pianta da Camaron della Isla e il palo più recente del flamenco che è La Galera creato dalla meravigliosa arte dell'Ebricano. Di queste cose il flamenco è pieno, pienissimo perché essendo una forma d'arte orale è logico che chi ha ascoltato qualcosa che gli è piaciuto lo ha diffuso, lo ha ripetuto e ne ha fatto a sua volta magari delle varianti. Essendo comunque una musica di tradizione orale, di diffusione non accademica, il flamenco non è riconducibile con sicurezza matematica a qualcosa di super preciso dal punto di vista storico. Per cui si può anche dire che tutto ha influenzato tutto e che quindi i ritmi si sono mescolati, le melodie si sono mescolate. Molto spesso se ascoltiamo un po' di flamenco ci rendiamo conto che magari la stessa strofa, la stessa letra viene cantata in palos diversi, le stesse parole vengono infilate in contesti emozionalmente anche molto diversi tra di loro. Poi per carità ci sono dei palos che hanno un po' una richiesta o una necessità di parlare di argomenti specifici come per esempio i palos relativi al mondo delle miniere, i palos di Levante parlano del mondo delle miniere. La Guajira parla dell'ambiente di Cuba e di tutto ciò che era il rapporto tra la madre patria e Cuba e viceversa. Ci sono anche letteras che parlano di argomenti lievemente diversi a volte proprio influenzati da altre cose o altre situazioni storiche che magari non sono così evidenti o così immediate ad un orecchio non tanto esperto e soprattutto a qualcuno magari che non conosce profondamente quell'argomento specifico. Capire che esistono i palos e che sono diversi tra di loro che ognuno porta la sua emozionalità ci aiuta ad esplorare la profondità del flamenco e a capirla come più profondamente come sempre se io do un nome a qualche cosa questo qualche cosa assume una realtà più consistente e quindi riesco a capire questo qualche cosa in maniera più profonda se invece non nomino questo qualcosa tutto si perde in una specie di nebbia generica il flamenco invece si centra sull'esplorazione di alcune emozioni o di una emozione specifica in ogni palo e la trasmette con grande profondità mantenendosi sempre molto legato ad un messaggio di saggezza popolare con l'intenzione di insegnare qualcosa agli ascoltatori sempre qualcosa di saggio o qualcosa di divertente ovviamente in alcuni casi però profondamente il flamenco si basa sulla saggezza si basa su una cultura molto antica e quindi sulla saggezza su un messaggio che poteva essere più facilmente veicolato appunto dalla musica sono Sabina Todaro mi occupo di flamenco e di danza e musiche del mondo arabo da tantissimi anni dal 1985 dal 1990 insegno baile flamenco a Milano ed è una responsabilità enorme perché ogni passo che faccio in più nei confronti di questa cultura mi fa rendere conto di quanto sia complessa e profondissima e più si studia e più si capisce che c'è da studiare il baile è solo la punta dell'iceberg del flamenco per capire veramente il flamenco sempre lo dico bisogna proprio andare a studiare il cante bisogna investigare il cante e soprattutto appassionarsi e ascoltare tantissimo finché le nostre orecchie si abituano a queste sonorità e le riconoscono come qualcosa di naturale per noi sempre quando insegno cerco di far capire agli allievi anche quando sono molto all'inizio che la musica nel flamenco non è tutta uguale quelli che non conoscono il flamenco spesso dicono ah ma il flamenco questi si lamentano sempre ma cos'hanno mal di pancia proprio la classica frase di chi non conosce il flamenco e non ha voglia di ascoltarlo è vero che il flamenco spesso si lamenta però molto molto spesso non si lamenta affatto molto molto spesso anzi celebra la vita e anche quando si lamenta non si piange mai addosso quindi riconoscere le differenze dei palos è interessante fin dall'inizio sentire che cosa fanno sul nostro corpo musiche molto eterogenee tra di loro alcune molto ritmiche altre senza nemmeno una struttura ritmica alcune in una scala maggiore molto serena molto allegra e altre magari con delle tonalità oscure come appunto i palos del levante sul nostro corpo tutta questa musica entra in un modo molto particolare ogni brano entra in un modo diverso e muove delle corde profonde dentro di noi proprio dentro il nostro corpo non solo dentro la nostra emozionalità ma anche nella parte fisica di noi che è davvero interessante esplorarle fin dall'inizio anche quando non abbiamo ancora una grandissima esperienza a riguardo le persone che si avvicinano al flamenco quando scoprono che esistono i palos che c'è tutto questo fatto da capire i generi musicali le varie possibili famiglie ritmiche le scale musicali ti guardano con degli occhi proprio sperduti e increduli ma come pensavo di fare un piccolo corso per divertirmi una volta a settimana e mi trovo immerso in un mondo complessissimo nel quale devo mettere la mia intelligenza e la mia sensibilità e non soltanto muovere un po' il corpo così in maniera leggera bene secondo me se vuoi studiare baile flamenco devi per forza passare attraverso la comprensione del cante non vedo un'altra possibilità la comprensione e l'amore nei confronti del cante quindi una bella esplorazione di palos anche molto diversi tra di loro è fondamentale anche imparare ad ascoltare quei palos che magari all'inizio ci sono meno simpatici ci risultano meno comprensibili è importante perché tutto genera un piccolo mattone che va a costruire l'edificio del flamenco e questo secondo me noi che siamo stranieri lo dobbiamo fare con grande rispetto proprio perché non essendo qualcosa che appartiene alla nostra cultura e alla nostra tradizione è molto importante che capiamo ancora di più come si struttura e quindi partiamo assolutamente all'esplorazione di questo mondo incredibile che sono i palos che sono i pali che sono i pali che sono i pali